A Valencia edizione tipica della tradizionale festa popolare Las Faias, una delle più conosciute di Spagna anche a livello internazionale. Grazie a un mix di arte, talento e buon gusto, le Faias, le peculiari sculture colorate in cartapesta o altri materiali combustibili che rappresentano una delle principali trazioni del festival hanno sfilato per le vie della città spagnola per poi essere bruciate nell'atto conclusivo della Kermes. Dal 2016 la festa è entrata a far parte del patrimonio immateriale dell'umanità dall'UNESCO.